Come sono stati questi mesi di lockdown? All'inizio sono stati difficili perché comunque accettare di restare fermi ci ha messo addosso tanta paura. Però dopo ci siamo ritrovati a casa con tanto stress addosso e tanta voglia di ricominciare e abbiamo deciso di rivoluzionare tutto quello che avevamo fatto due anni prima e abbiamo deciso di ritornare in campo a sport, a domicilio e a star vicino ai nostri clienti. Quando, soprattutto tu che arrivavi nelle case della gente, come ti accoglieva? Ovviamente i sorrisi sotto la mascherina erano un po' difficili da vedere, però c'era un po' di questo sentimento? Sì, sì, era molto contenta la gente di vederci, tutti preparati, mascherina, guanti, tutto a posto. È un servizio che avete fatto col cuore? Sì, infatti abbiamo deciso proprio anche di non aggiungere spese alle consegne, ma perché per noi era bellissimo comunque stare a contatto con i nostri clienti anche perché non era proprio l'ordine in sé del fammi un hamburger, fammi questo, era proprio come state i ragazzi, come va in famiglia, come state, e come era un modo per renderci utili e vicini ai nostri clienti. Tra poco non solo Piadina cambierà nome e cambierà anche il luogo. Noi in anteprima abbiamo già visto qualcosa, ma non dobbiamo svelare nulla. Cosa vogliamo dire? Chi vi sta ascoltando? Che probabilmente ritorniamo più carichi di prima, perché abbiamo tanta voglia di ricominciare e io di cucinare e lui di offrire un servizio solamente diverso da quello che era prima. La cosa più bella che vi è capitata in questi mesi? Secondo me, renderci conto... I valori della vita. Sì. Avvicinarci ai valori che magari via per il lavoro, eccetera, esigenze particolari andavano un po' a perdersi. E poi secondo me, io ho imparato da quei giorni di lockdown che i limiti secondo me aiutano a tirar fuori una carica diversa. Non dobbiamo imporci limiti e non ce la faccio. Secondo me è tutto fattibile se ci metti testa e cuore.